Perchè gli dice Gesù che il suo regno non è di questo mondo? Il Signore, lo ricordi bene, è già durante la sua passione, si presenta apertamente a Pilato come re. La Chiesa, alla fine dell'anno liturgico, dedica quest'ultima solennità a considerare Gesù Cristo re dell'universo. Ed è importante festeggiare questa grande solennità pensando appunto che abbiamo un re che è Gesù. Ma la domanda viene subito, ma Gesù ha detto che il suo regno non era di questo mondo. Come interpretare questa parola? Che cosa significa? Il Signore da una parte, quando insegnò ai Suoi discepoli a pregare, lo ricordi bene, dice «Venga il tuo regno», come una delle petizioni che tutti i giorni dobbiamo fare. E vuol dire allora che il suo regno non è ancora arrivato, è qualcosa che deve ancora arrivare. Ma allo stesso tempo, in un altro momento del Vangelo, leggiamo che Gesù disse ai Suoi discepoli «Il regno di Dio è tra di voi, è in mezzo a voi», come dicendo «Io sono il regno di Dio, io vi ho portato il regno di Dio». E questo i teologi lo formulano con quella frase del «già, ma non ancora». Dicendo «Il regno di Dio è già presente sulla Terra, ma non è ancora compiuto». Ci sono ancora, non sappiamo quanto tempo deve passare finché arriva il compimento finale, la seconda venuta definitiva di Cristo e si compia e Lui sia davvero Signore di tutti. Gesù ci chiede, ed è questo che la Chiesa ci invita a fare ogni anno, ci chiede di domandarci «Allora, il regno di Dio è nel tuo cuore? Stai lasciando regnare Gesù?» Perché il pericolo è che come il regno di Dio, il regno di Gesù appunto, non è di questo mondo allora il pericolo è che stiamo lasciando regnare qualcun altro e non Gesù. E quello lo dice San Paolo, il principe di questo mondo è il demonio, è Satana, è Satana. E non ci sono altre possibilità, o lasciamo regnare Gesù o lasciamo regnare il diavolo. Non ci sono altre possibilità, o regna il nostro egoismo o regna l'amore di Dio. E dobbiamo chiederci con sincerità nel nostro cuore, sta regnando Gesù? Regna Gesù nel mio lavoro? Regna Gesù nelle mie relazioni personali? Regna Gesù nei miei momenti di riposo? Regna Gesù nei miei sentimenti? Regna Gesù nelle mie passioni? Regna Gesù nel mio corpo? Perché il Signore deve essere re universale, re di tutto l'universo. Vuole regnare in ogni nostro singolo respiro, in ogni nostra singola sensazione. E dobbiamo chiedergli al Signore appunto la grazia di lasciarlo regnare, ripeterle molte volte. Come hanno ripetuto tanti santi, regnare è Cristo un volumus. Vogliamo che il Signore regni, vogliamo Gesù che tu regni nella mia vita, nella nostra vita. È una festa molto bella, a me sempre mi fa ricordare ai martiri del Messico, io sono dal Messico, che hanno dato la loro vita a quel grido, viva Cristo re, viva Cristo re. E non hanno voluto, diciamo, smettere di gridare, malgrado la persecuzione, malgrado tutte le minacce. Sono morti dando la vita per Cristo re. Tanti santi ci gridano ancora a noi, viva Cristo re. E dobbiamo noi domandarci, tu e io, se sappiamo gridare, non con la voce che è facile, ma con la nostra vita, con i nostri atti, con il nostro atteggiamento, se stiamo gridando davvero, viva Cristo re. Grazie. 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 Grazie.